tre cose che non sapete di fobos halloween night 1 si svolge interamente in un hotel quattro stelle 13 piani con ascensore panoramico a pochi passi da verona la seconda è che tutti gli attori che parteciperanno tutti i protagonisti di questa esperienza dormiranno qui con noi in hotel e 3 c'è posto anche per te potrai soggiornare qui con noi fai questa scelta prenota qui con noi perché i nostri letti sono davvero comodissimi grazie grazie grazie